Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo in Indonesia, più precisamente a Pontianak nel Borneo. Guardate questo bellissimo spot elettorale, molto nascosto, è la cosiddetta pubblicità subliminale. E guardate, sotto abbiamo una bellissima ambulanza, molto folcloristica per i suoi colori. E se notate bene c'è scritto ambulanza gratis. Ecco, come potrete capire, il messaggio elettorale è molto forte ed è anche molto caratteristico vedere un'ambulanza con questi colori. Ed è anche molto caratteristica la città, veramente un posto. Se avete modo di girare l'Indonesia, venite nel Borneo. È un posto veramente bellissimo, molto interessante, molto vivace. E ci sentiamo alla prossima.